Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Tumate quella stronza! Bastardo di merda! Porca puttana! No, non mi calzona, non mi calzona Non mi calzona Salsiccia insieme Ma sai com'è grassa con la salsiccia? No, no, io so già L'odore faceva verbo Però se non mi calzona è buona Non è come la nostra, non c'entra niente Ma è delicatissima Quindi si sposa bene con Gorgonzola sicuro Nice, nice Eccolo Alla punto Gorgonzola No, latte, latte con Gorgonzola Sono qua, sono dietro di te, sono dietro di te Però se le esci correndo in faccia Eh, ma porco schifo Eh, Cristo Dio, Efesto, Cristo Dio Ma è uno di uno, se lo faccio Ma Cristo Dio, me lo faccio con cosa? Col cazzo in mano Ma come fare non avere dei cazzo di armi? Ma non le ho perché mi hai fatto pushare Ma scusi, ma se faccio i fight mi muoro Eh, lo so appunto Allora, buono Masanielli, eccezionale Incredibile Ti ho detto ad Ernesto Mi ha riportato indietro Di 23 anni Quello era esattamente il sapore della pizza Che avevo mangiato Da una signora di Napoli Che erano 70 anni Che faceva la pizza C'è da dire che i ragazzi Ci sono molto Molto soddisfazione di da Dopo di me La persona che veramente mangia Molto bene Molto bene Molto bene Ti ho detto bro Non posso Lui mi ha guardato E mi ha risposto Non sono bro Quindi E mi ha anche un po' scomunicato Vamos No, è vero ragazzi Avevo Si, si, si Gli ho detto bro C'è la pace Adesso va bene che mi inviti Te Faccio Posso fare live dal conclave? E mi ha detto no E da allora non vengo Cioè Cazzo vengo a fare Mi ha detto C'è un po' di figa Metto Si è messo in cosa Della cartiglierica Sulla mano Tipo sommeliero Perché è pazzo Prosecchino delle dieci Raga Non è male Io vedi queste cose qua Le adoro nel senso È arrivato Ma poi Prosecchino C'è messo mezzo litro Di prosecchino La situazione potrebbe De generare No De generare con un prosecchino così No Allora Sottolineatura 90 Sottolineatura 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 Nel frattempo Il match in Locolo 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 Grazie Joe 2010 2003 Buongiorno 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 Peppe Buongiorno Lorenz Grazie ragazzi Cazzo è arrivato È arrivato con la cartiglierica Penso che non me lo dimenticherò più Tanto mentre Intrattendiamo Prosecchino delle 10 17 Che siamo Adesso tolgo Questo Metto le scarpe Anch'io I peggini Andiamo Vapevo Meno male Che la Ti faccio la messa Salve Salve Ho messo la camicia Ora però c'è un problema Dovevo abbassare i pantaloni E come la E non abbiamo neanche fatto Top 15 Purtroppo Top 35 E la Che stava aspettando Gesù Bambino Merda Beh ci sta che il 69% Abbia detto di no Quindi direi che Il pronostico comunque è andato bene Per la maggior parte di voi Ci rigiochiamo comunque Una top 15 Andiamo No fretta Edz Signori Edz Merda È un back to back Che cazzo vuol dire? Abbiamo vinto No Prima siamo arrivati i terzi Ok Allora mi si vede ancora piccolo Lo sbrocca Ma veramente Ma qualcuno ragazzi può aiutarla Io non so perché Vai attenzione 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 87% Ma perché lì si vede ancora piccolo? I don't know Ragazzi qualcuno può dirmi perché si vede così piccolo Roma Entriamo in una galleria No è corta Speriamo se è corta viene Benissimo Il cambio è automatico dicono Ci va un po' di sole Stanno frenando Ok ho girato intanto Ma noi da che partiremo Ma direi 4 frenze per quelli che entrano Che se non ci sfondano Ok easy Che ti sfondano fulo Nem 2 km 6 dritti È diverso perché è la donna Che è a mano Tutto Tutto che comanda Se la donna dice no L'uomo Ma che cazzo dice La donna è puttana E l'uomo ragiona col cazzo Le puoi cambiare solamente Se sei Le puoi cambiare solamente Se Se chiudi OBS Hanno sistemato la roccia Vero? Eh sì hanno aumentato Diamante 1 Il signor Carlo Merda Provo ad alzare Ancora un pelo Il download E qua andiamo a 2000 Stavo guardando Ed è È veramente Zoom Che è entrato Adesso bestemmio però Cristo di Dio Orgoglio italiano Il bassista degli slipknot Nice Ben culato Bravo Non si sa Aveva Gesù Nel mitra Questo Aveva Gesù nel mitra Questo era qua Ma che cazzo balli Coglione Ti trovi in 1v1 Ti taglio la colate Ci cago in culo E poi te la vado a cucire Con quella cazzo Di mutanda Della figa Di tua madre Bastarda Sì raga Tra il 2000 e il 2010 Vado 800 metri Buongiorno Faggio Magari avessi fatto il muratore Io facevo il manovale Che era peggio Io sono quello che li aiutava I muratori Salute Troppo piccolo Ciao Faggio Ciao che saluto Ciao Rashid Un saluto Ora si può switchare la katana Come se fosse un'arma normale Siamo attaccati Rompiamo qua Che c'hai tu Davanti in open Aspetti Cecchini ci sono Ok 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 Ah bello questo bush Se tu li vedi serve god Non li vedo Perfetto Minca ho preso quello da solo Non ci credo Non è vero? Ultimo Non ci credo E finisce così Secondi Un momento Ma fa Faffanculo va Ok Siamo in 5 Ma ragazzi c'è un C'è una cosa illuminata sul 5 Buongiorno Qrem Buongiorno a tutti ragazzi Che che mi ha scritto intanto E' un momento E' un momento Che mi ha scritto intanto